Il più grande evento sportivo Avendo una ricaduta straordinaria sull'impiantistica sportiva Perché verranno ristrutturati quasi tutti gli impianti sportivi Moltissimi in periferia Con una ricaduta enorme in termini di immagine, di turismo e di forza della città E quindi dell'Italia E da ultimo anche una ricaduta sociale Perché quelle che saranno le case provvisorie per gli atleti Poi potranno essere a disposizione per le emergenze abitative dei nostri territori Quindi lo sport può significare solidarietà, cultura, turismo Rilancio dell'immagine dell'Italia Fare squadra e gestire il denaro con le mani pulite Quindi credo che Napoli potrà dar prova insieme a tutte le istituzioni Di vincere anche questa sfida